Negli ultimi quattro anni i corsi delle lauree magistrali hanno perso il 35% di nuovi iscritti in tutta Italia, un callo generale di nuove iscrizioni è al 3%. Particolarmente grave la situazione nelle facoltà di giurisprudenza. Ma nonostante la situazione, l'Ateneo di Salerno registra un aumento di iscrizioni del 5,4% nel 2015 rispetto al 2014. Andiamo a chiedere agli studenti perché hanno scelto di studiare proprio qui. Vabbè perché stavo vicino a casa e alla fine è buona l'Università degli Studi di Salerno, offre molte cose. E mi trovo molto bene alla fine, sono organizzati, comunque ti aiutano molto qui. Io ho scelto di studiare qui perché anche per motivi logistici, abitando a Salerno è molto vicino all'Università di Fisciano, è molto comoda, è raggiungibile con i mezzi di trasporto. Perché hai scelto di laurearti qua? Perché inizialmente appena che sono venuta a Fisciano è stato un amore a prima vista, è stato bellissimo venire a Fisciano. Sono da 5 anni qui, ho terminato e sarà un bel ricordo. L'ho scelta perché me l'hanno consigliata, buoni professori, mia madre ha studiato qui e mi trovo bene. È evidente che questo ci colloca al 14esimo posto in Italia tra numero di immatricolati e rispetto ai 13 Atenei che ci precedono come numero di immatricolate, noi siamo tra coloro i quali sono cresciuti e siamo noni e siamo al secondo posto tra quelli che sono cresciuti di più. Ma in realtà non sono tutte rose e fiori. Qualche criticità dell'Ateneo? No, criticità no, solo che alcune facoltà dovrebbero essere migliorate, nel senso ristrutturate e curate meglio. Per me il sito, voi professori forse non sono così allenati a queste nuove tecnologie. Problematiche in particolare no, anche perché con i mezzi di trasporto è tutto perfetto. Io vengo da Caserta, ci impiego tre quarti d'ora ad arrivare stesso all'interno dell'università, quindi no, nessun problema in particolare. Gli orari dei corsi, io sento anche le altre facoltà che si lamentano sempre, perché appunto ti mettono un corso alle 8 e mezza, un altro alle 4 e mezza, quindi tu sei qui che non hai niente da fare, fondamentalmente cerchi di passare il tempo studiando, però è difficile soprattutto per chi abita fuori. Poi pullman è un problema, il pullman prende il pullman, passa, non passa, fare tardi ai corsi, è tutto un casino. E' chiaro che se non c'è, non ci sono immatricolati, non ci sono laureati, questo è un danno per le famiglie, è un danno per il territorio, è un danno per la crescita complessiva del paese.